E niente a gente, come le ho già detto. Stavo tranquillamente percorrendo la strada di ritorno a casa, quando all'improvviso una diga di merda si è aperta nel mio culo strappandomi le mutande a metà, ho rotto tutti i finestrini della macchina e uno tsunami di merda ha ricoperto tutte le case e macchine circostanti, cambiando skin a molte persone della città. Poi, in lontananza, ho visto una persona a sedere ricoperta completamente di sgrumo e feci era Burger, che con un calcio rotante mi ha fatto svenire dalla troppa merda entratami nei polmoni.